Mario Folena, verrebbe da dire flautista, ma mi sento in dovere di aggiungere non solo. E allora lascio questo onere pesante di autodefinirti al meglio. Sì, la musica non è il mio solo interesse, mi piace disegnare, mi piace scherzare, mi piace passeggiare, mi piacciono i fiori, le piante, insomma mi piace la lettura, ho tanti interessi. Effettivamente definirmi solo musicista potrebbe essere limitativo. Io infatti, siccome diciamo pure a quelle due persone nel mondo, nel globo terraqueo, che non sanno chi è Mario Folena, che tu sei appunto noto per questo ruolo di flautista solista, grande esperto di flauto traversiere, come vedremo più avanti, prima parte d'orchestra, insomma ti sei ritagliato in più di 40 anni, direi ormai di carriera in questo mondo, una identità nota per il grande pubblico in questa dimensione. Però appunto io so bene che prima fuori onda si parlava e mi piaceva sottolineare questo tuo essere in realtà anche nella musica un intellettuale della musica. Io cerco di dare un significato profondo ai suoni che produco con lo strumento. Credo che il significato più profondo che un musicista possa dare alla propria musica sia un significato tra virgolette metafisico, esistenziale. Tu quando suoni flauto con il respiro assumi quell'energia vitale che ti mantiene in vita, tutti quanti respiriamo, ma il flautista traduce questa energia in un soffio che mette in vibrazione uno strumento. Quindi praticamente in questo processo in cui c'entra proprio la parte più più carnale, più, più, come si può dire, sì, la parola giusta è proprio carnale perché lo scambio fra ossigeno, anidride e carbonica avviene all'interno del nostro corpo. Quindi è un processo vitale che però alla fine si traduce in un suono che tutti possono ascoltare. È un po' come se tu prendessi coscienza dell'essere attraverso il suono e lo comunicassi a chi ti ascolta. È un po' come se l'universo attraverso di te prendesse coscienza di se stesso. Certo. Io in particolare ricordo anche un'altra tua peculiarità, sempre da questo punto di vista dell'intellettuale della musica. Noi abbiamo registrato tante cose insieme e l'ultimo disco pubblicato è di pochi anni fa, è una registrazione dal vivo che hai fatto come solista di un concerto di Mozart, con l'occasio di Padova e del Veneto, un disco fra l'altro di buon successo. E io ricordo una tua dotta dissertazione presente anche all'interno del libretto sul significato che Mozart o che tu hai voluto ricavare o che Mozart voleva dare a una determinata frase sonora ricorrente all'interno di quel concerto. Quindi io ho sempre notato in te questa voglia di andare a scavare anche dentro la testa degli autori veramente cosa volevano dire con quelle, come diceva mio papà, quelle palline nere con le gambette. Forse sono gli autori che scavano dentro di noi attraverso il loro linguaggio musicale, cioè riescono a delicitare, a tirar fuori delle emozioni grandissime attraverso un'arte che poi è un'arte retorica. Quindi se tu ti soffermi ad analizzare le figure retoriche che compongono anche le musiche di Mozart, scopri dei significati e delle profondità assolutamente incredibili, incredibili, inattese. Nel caso specifico del concerto K314, nel movimento lento, nel movimento centrale, Mozart ha utilizzato quattro note, sol, la, do, si, che molti semiologi definiscono il simbolo della fede, perché derivato da un graduale gregoriano, lucis creator optime. Sono le quattro note iniziali di questo graduale gregoriano e molti compositori, non solo Mozart, lo hanno utilizzato, lo hanno inserito all'interno delle loro opere. La cosa curiosa è che questo simbolo della fede venga utilizzato da Mozart in maniera piuttosto misteriosa, alternandolo ad un altro simbolo, a una figura retorica che in musica indica la domanda. Ci sono due frasi interrogative. Una frase interrogativa in musica è, per definizione, una cadenza sospesa con movimento semitonale. Se vuoi te lo posso spiegare provando a canticchiare le note. Come no? Cioè la melodia fa sol, re, si, sol, la, si, la, la, do, la, si. Allora, perdona lo stonamento, ma non sono un cantante. Vedi, la prima nota del motto è proprio all'inizio, sol, poi c'è un gesto introspettivo, c'è un salto di quarta, quindi sol, re, è un po' come se si abbassassero lo sguardo guardandosi dentro, guardando dentro il proprio cuore. Quindi sol, re, poi c'è un salto di sesta, si, re, si. Ecco il salto di sesta, per i semiologi, esprime sempre l'elevazione dello spirito. Se vuoi anche l'elevazione dello spirito, non spirito inteso come spirito anima, ma spirito, spirito, quello, quello da bere. Pensa, per esempio, al Brindisi di Traviata. Ah, sì. Libia, pam 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 pam, ram pam pam, e lì proprio già in questo salto di sesta è insito, proprio, è fortemente legato al gesto dell'alzare il calice, no? Quindi qui, in questo caso, Mozart, in un contesto introspettivo, sol, re, guarda dentro se stesso, poi guarda verso l'alto e formula una domanda. Qui troviamo proprio la prima frase interrogativa, sol, la, si, la, la. C'è un'alterazione, il sol diventa sol diesis, sol, la, si, la, la. Vedi che io disegno nell'aria una curva e un punto, ma se tu ruoti di 90 gradi questo gesto, ti accorgi che non è nient'altro che un punto interrogativo. Eh, sì. Vedi? Quindi anche dal punto di vista visivo, la musica suggerisce la domanda, ma è effettivamente, dal punto di vista retorico, una frase interrogativa. Quindi pone una domanda, sol, la, si, la, la. Poi c'è una pausa di attesa, ma non arriva la risposta. Allora Mozart cosa fa? Reitera la domanda, sol, la, si, la, la. Ripete la stessa domanda, tale e quale. Questa figura retorica ha un nome, si chiama palillogia. Ecco. Ma cosa esprime la palillogia? Cosa esprimono? Due domande uguali, fatte di seguito. Esprimono, eh, per esempio, faccio un esempio banale. Marco, cosa fai stasera? Tu non rispondi? E allora io rimango nel dubbio, no? Quindi sono costretto a ripeterti la domanda. Marco, cosa fai stasera? Ecco, questa è una palillogia, è una ripetizione pura ed è anche espressione di dubbio. Quindi Mozart incastona all'interno del motto, simbolo della fede, il dubbio. Quindi tutta la frase musicale esprime l'idea del dubbio della fede. Come sempre sono molto affascinato quando ti ascolto e ti ho voluto qui per riuscire ad affascinare anche i nostri spettatori che ormai molto fedelmente seguono questo canale, che è un pubblico di grandi appassionati di musica, di appassionati di bel suono, audiofili, e che forse da oggi cominceranno ad ascoltare sia questo concerto, ma probabilmente gli verrà il dubbio anche di molti altri, di ascoltarli con un'attenzione, con un orecchio differente, no? Un'attenzione differente al contenuto che stanno ascoltando. Sempre che non si siano addormentati, è la mia spiegazione. Io non credo. Ecco, un'altra cosa che si può aggiungere a questo, per completare questa mia spiegazione accompagnata dalle mie note stonate, è che il dubbio, questa idea del dubbio è sostenuta anche dal fatto che alla fine, prima di enunciare la quarta nota del motto, quindi sol, re, si, sola, si, la, sola, si, la, do, la, si, la, si, c'è un la diesis, c'è un'appoggiatura, in termini tecnici è un'appoggiatura sul battere della quarta battuta d'arrivo, della frase musicale, che precede la nota d'arrivo. Quindi la nota d'arrivo non è su un tempo forte della battuta, ma è su un tempo debole. Questo particolare tipo di cadenza si chiama cadenza femminile. La cadenza maschile ha un significato più affermativo. La cadenza femminile invece esprime una delicatezza, un'incertezza, che proprio rende molto potente e avvalora la mia tesi, che effettivamente questa frase esprima il dubbio nella fede. E qui, come si può continuare un discorso che ha preso questo vertice così alto, si può continuare abbattendo il vertice, scendendo agli inferi del misteride che è in te, che è in realtà il fine umorista, che adesso tutti hanno visto questa figura quasi mistica nella tua descrizione, nel tuo racconto, sicuramente molto più che cattedrattica, perché hai dato veramente l'impronta del grande maestro che va oltre la cattedra, e se vogliamo anche questa serietà. Ma c'è quest'altro aspetto, appunto il mister Hyde, che io ben conosco, presente in te, del fine umorista, e anche a volte il greve umorista, piacevolmente greve. No, a parte questo lungo giro di parole, tu hai, dicevi prima che ti piace disegnare, illustrare, ma ti sei ritagliato nell'ambiente musicale veramente il ruolo quasi ufficiale del caricaturista, del fine umorista osservatore dei colleghi e situazioni musicali. So che fra l'altro hai portato tre esempi di questa tua cosa, che adesso vedo il primo che scorre che è il baritono. Il baritono, sì. E naturalmente, cioè, viene spontaneo, dopo aver disegnato il baritono, disegnare il baritono. Certo che vediamo scorrere pure. E sono figure che ricordano vagamente. Qualche personaggio. Qualche personaggio. Certamente del mondo della lirica. Certo. Senti, ma al di là di questo sono veramente molto, cioè io penso che siano centinaia le caricature che tu hai avuto occasione di fare. Sì, credo che siano veramente diverse centinaia. E spesso dietro le quinte dei concerti? Ma anche spesso fatte su foglietti così recuperati sul posto. Quindi, non so, possono essere bozze di calendari d'orchestra oppure sul retro bianco di qualche dépliant. Programme da concerto, sì, sì, sì. E ce n'è un'altra e questa, insomma, è anche, credo, un ricordo molto così affettuoso che entrambi abbiamo, che tu hai fatto del grande maestro di Peter Magga, giusto? Caspita, sì. Lui sì, era un fine umorista. Era un grande anche in virtù del fatto che era in grado di ridere di se stesso. Penso sia una qualità fondamentale per un grande artista. Cioè la capacità di mettersi in discussione e di ridere di sé. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di incrociare le nostre vite, la tua, la mia, con Peter Magga, in un periodo preciso, che poi è l'ultima parte della sua vita, la seconda metà degli anni 90, in cui tu, primo flauto dell'orchestra di Padova e del Veneto, io come ingegnere del suono, abbiamo collaborato con il grande Magga per l'integrale sinfonia di Beethoven, per altre produzioni discografiche. Certo. Quindi abbiamo avuto modo di conoscerlo bene anche in questi, io poi l'ho seguito in due importantissime produzioni in Spagna, sinfonia di Mendelssohn, l'Orfeo ridice, insomma ho lavorato veramente tanto con Magga e confermo che aveva questo innato spirito anche lui. Beh, guarda, ti faccio un esempio, una volta eravamo a tavola proprio in Spagna, a Doviedo, dopo un concerto, e io per scherzo non mi ricordo più il contesto nel quale ho detto una frase anche un po' sciocca, ho detto è veramente cosa buona e giusta trattare i musicisti con la frusta. E Peter Magga se ne salta fuori con una frase che mi ha lasciato veramente a bocca aperta perché ha detto io so cosa significa la frusta perché sono stato frustato. Caspita, e lì allora ho cercato di indagare e gli ho chiesto ma chi l'ha frustata maestro e lui mi ha spiegato che nei tre anni trascorsi nel monastero buddista alle spalle di Hong Kong c'era la preghiera notturna che cominciava alle tre e mezza, dovevano svegliarsi, chi arrivava in ritardo alla preghiera, per chi arrivava in ritardo c'era la pena corporale che erano frustate, quindi lui non riusciva ad arrivare mai in tempo e quindi si è pigliato tantissime frustate. Forse sono proprio quelle frustate che hanno restituito al nostro mondo fortunatamente il Peter Magga direttore. Peter Magga ha una storia, adesso non ci dilunghiamo, però ha avuto una vita molto particolare, cioè prima un grande successo negli anni 70, soprattutto 60-70, poi ha avuto un momento di blackout diciamo, in cui si è, sorvoliamo sui motivi del blackout, ma insomma si è interiorizzato e si è rigenerato con questi anni passati nel tempio per poi tornare con questa seconda giovinezza che ci ha offerto registrazioni a concerti incredibili. Fino al 2002 mi pare che sia mancato a lui. Io ho preso una grande lezione da Peter Magga, più di una grande lezione, perché sapeva comunicare attraverso le sinestesie. Io giocavo molto con le sinestesie. Mi spiego meglio. Per esempio, una volta stavamo provando l'Overtour delle Hebridi di Mendelssohn, in cui all'inizio si esprime proprio l'idea dell'onda. E dopo poche battute Peter Magga interrompe, interrompe la prova attichettando con la bacchetta sull'eggio. Signori, per cortesia, fatemi sentire la puzza del pesce. Ecco, con questa frase, apparentemente molto forte, è riuscito a tirar fuori non la puzza del pesce, ma l'idea del mare che ognuno dei musicisti ha ed è legata a sensazioni forti, come possono essere proprio l'odore del mare e il pesce. Il pesce richiama l'odore forte del mare. Quindi sapeva veramente cavare fuori con queste frasi il meglio da ciascun musicista, perché si era portati proprio a dare il proprio contributo nell'idea del mare. E tante idee del mare messe insieme fanno un'oceano. Eh sì, decisamente. Ma poi sempre nello stesso pezzo, adesso che ci penso, cioè verso la fine, e tutti gli ascoltatori potranno verificarlo, a un certo punto c'è una frase del flauto che fa re 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 do 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 re 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 do. E sono delle note ribattute che sono difficilissime da rendere, perché uno si chiede ma che significato hanno. E mi ricordo che durante una prova, Peter Maghi interrompe l'orchestra, si rivolge a me, carissimo professore, in questo punto mi faccia sentire il verso del gabbiano. E ho capito che effettivamente aveva ragione, aveva visto giusto. Anche questo è un caso di musica visiva, perché ci sono le note ribattute. Le ali del gabbiano. E queste note ribattute sono sormontate proprio da una legatura. E proprio è un disegno stilizzato di un gabbiano. Ed è anche l'effetto doppler del gabbiano che si avvicina e si allontana. Quindi, se tu hai questa idea, perché tutti noi abbiamo sentito il verso del gabbiano, cioè c'è poco da fare, e tu restituisci la tua idea attraverso il suono. E quindi, cioè, subito la musica acquista un significato che altrimenti non emergerebbe. Assolutamente. Ma l'idea del gabbiano l'ho sempre sentita solo in Peter Maghi, in nessun altro direttore. Molto interessante. Senti, sempre saltando nelle cose che ruotano attorno al nostro mondo, non posso non farti la domanda in qualche modo esiziale che il pubblico di questo canale aspetta, cioè il tuo rapporto col mondo della musica registrata. Ti faccio questa domanda dopo che, sempre fuori onda, mi hai raccontato un po' dello stress che stai vivendo in questo periodo di registrazioni forzate, verrebbe da dire lavori forzati, no? Assenza di pubblico dal vivo e quindi orchestra e musicisti impegnati in lunghi tour di lavoro. I lavori forzati sono un'altra cosa. Certo. Era un'iperbole voluta. No, perché comunque sì, effettivamente lavorare per molte ore al giorno, per tanti giorni di seguito, con il microfono puntato è un po' come avere un fucile puntato, perché devi suonare, è un po' come lavorare al microscopio, ecco. Certo. Il concerto è one shot, cioè l'emozione del momento, il pubblico davanti che dà una comunicazione, un feeling di un certo tipo. Sì, certo. Molto spesso hai la pelle d'oca mentre suoni. C'è una scambio. Tensione emotiva, certo. Sì, mentre invece quando si suona davanti a una telecamera e un microfono, questo spersonalizza naturalmente il contesto in cui tu ti devi, devi comunque produrre musica. Esatto. E questo è lì, volevo arrivare. E' più difficile, sicuramente è più difficile. Con tutto che tu hai un'esperienza di registrazione sterminata, premi del disco vinti in Italia all'estero, di Apason Door, chi più ne ha più ne metta, cioè hai una lunghissima frequentazione col mondo della registrazione, giusto? Di Apason Door non lo so, adesso forse... Pare di sì in un contesto cameristico. Un tuo disco, un disco in cui tu suonavi, sicuramente ha preso un di Apason Door, ne sono certo. Un anno... Forse con Guglielmo, con i gruppi... Sì, forse sì, sì, hai ragione. Con i gruppi di Federico e Gianni. Un anno hai vinto con, cos'era, con Roberto Loregià? Con Roberto Loregià, premio della critica discografica italiana, come miglior disco dell'anno di musica classica. Quella è stata per cui una sorpresa. Mi ricordo, me l'hai comunicato perché eravamo in prova generale con l'OPV, io ero come al solito con le cuffie in testa, si è arrivato con la notizia, ho saputo sta cosa, casco dalle nuvole. No, invece in realtà giusti riconoscimenti. Era un disco di musica di Geminiani. Geminiani, sì, sì, sì. Adesso abbiamo detto della registrazione, ma come ti poni verso la musica registrata? Cioè nel momento in cui tu vai a risentirti, a riascoltarti, hai un atteggiamento filosofico, tranquillo? Ti riconosci, non ti riconosci? Come vedi la registrazione? Cioè la registrazione è finalmente arrivata a restituire il Mario Folena vero? o siamo ancora in una bella copia? No, no, io se mi riascolto, suonare, mi riconosco. Non mi riconosco quando riascolto la mia voce. Beh, quello è normale, tutti noi. E poi sento tantissimo l'accento veneto. Tutti noi veneti siamo riconoscibili, per quanto ci impegniamo di così. E lì è proprio come un marchio di fabbrica che uno... Forse, forse tutte le aree regionali hanno questa caratteristica, ma probabilmente noi veneti più di altri. A proposito di saltare di palo in frasca, prima mi sono dimenticato di parlare di Nanut. Io ti ho portato anche un altro disegno, una caricatura del maestro Nanut, grande direttore sloveno. Che la facciamo passare allora, subito. Ecco, io sono molto affezionato a questo disegno perché quando l'ho fatto a lui era molto piaciuto, se l'era portato a casa. E poi quando è ritornato a dirigerci qui a Padova, lo vedo venire avanti con una bottiglia di Slivovitz, tutto sorridente. Maestro, sua caricatura, capolavoro. Io ho capito grande capolavoro quando mio nipotino ha visto il disegno sul tavolo in cucina e ha detto guarda nonno. Allora io ho capito che questo è un grande disegno. e questo mi ha fatto veramente molto piacere perché è stata una cosa molto simpatica. Sì, poi lui era un omone, un omone dell'est, molto gioviale, molto alla mano anche come persona, oltre ad essere un grande direttore. Sì, era un omone dell'est però di origini italianissime perché Nanutti in effetti ha un cognome friulano. Friulano, sì, sì. Ed era di... Canal. Canal. Canal, sì. E sì, è uno dei, credo, dei tantissimi episodi che sia tu che io, tutto sommato, potremmo raccontare con queste personalità con cui abbiamo avuto il piacere di confrontarci. Però io vorrei tornare a un aspetto a cui accennavo all'inizio e cioè del flauto traversiere. Perché qui scatta questo dualismo nel flautismo e mi si passi questa pessima definizione che do di questa cosa perché tu, insomma, nasci a un fan prodige, giovanissimo, ti diplomi molto presto nel flauto che tutti conoscono, in argento piuttosto che in oro e bim bum bam. Però, credo anche molto giovane, entri in contatto col mondo degli strumenti antichi, il traversiere, altro non era che il flauto un po' delle origini che si suonava ai tempi della musica antica, della musica barocca soprattutto. Insomma, vorrei che mi raccontassi un po' questo passaggio e poi anche questa convivenza con questi due mondi. Sì, io ho avuto la fortuna, quando avevo 15 anni, di conoscere un collezionista amico di mio padre che abitava in Versilia, a Via Reggio. Era un dentista che collezionava strumenti musicali e nella sua collezione aveva un traversiere italiano nella metà del Settecento e me ne fece dono. Quindi io cominciai a suonare il traversiere in realtà molto presto, avevo appena 15 anni, ed è stato uno studio personale che ho affiancato a quello accademico in conservatorio. Poi però mi sono diplomato in flauto attraverso moderno e curiosamente chi suonava gli strumenti storici, magari il flauto dolce, sosteneva che io non potevo suonare lo strumento storico perché avevo studiato il flauto Böhm, ignorando che io in realtà ho sempre suonato anche il traversiere. Ci sono delle differenze abbastanza importanti nell'approccio ai due strumenti? Direi proprio sì. Se vuoi sintetizzarle proprio for dummies, come si dice. Guarda, solo che nella struttura della cameratura. Nel flauto moderno abbiamo un corpo con una cameratura perfettamente cilindrica e una testata, cioè la parte superiore dove c'è il foro di insufflazione, che ha un andamento parabolico, cioè si stringe verso la testa, verso il tappo che chiude questo tubo. Mentre nello strumento antico, nel traversiere del Settecento, abbiamo una testata perfettamente cilindrica e un corpo tronco conico che va a stringersi verso il piede. Quindi è esattamente l'inverso. Quasi il contrario, sì, esatto. Sì, e questo comporta nella spettrografia del suono che nel flauto traversiere è molto più semplice produrre i suoni gravi, i suoni più gravi sono... Nei suoni gravi è presente di più la fondamentale. Mentre invece nel flauto Böhm moderno, se tu fai una nota grave, questa tende quasi subito a ottavizzare. A sviluppare gli armonici. È molto più presente la componente armonica superiore. Quindi tende subito a scivolare nell'armonico all'ottava, nel primo armonico. Poi c'è anche, proprio a livello di manualità, il flauto moderno ha le chiavi, il traversiere... Ha un sistema molto complesso di chiusura dei fori, ha molti più fori, tutto il tubo. Mentre invece il traversiere è uno strumento assolutamente semplicissimo, apparentemente semplice. Ha solo sei fori per le dita e un settimo foro che è chiuso, tenuto chiuso da una chiave. Quindi sono solo sette fori. Tutte le alterazioni devono essere prodotte con delle posizioni cosiddette a forchetta delle dita e poi aiutandosi molto con l'imboccatura. Se tu vuoi suonare intonato con un traversiere antico, devi per forza intervenire sull'intonazione attraverso il foro di insufflazione, chiudendolo per far calare il suono oppure aprendolo per farlo crescere. Certo. E qui torna la domanda di partenza, e cioè la convivenza. Tu sei un professionista, quindi hai mantenuto per tutta la tua carriera sia l'attività col traversiere, dischi, concerti, eccetera, sia l'attività col flauto moderno, orchestra e ancora concerti, ancora dischi. C'è una difficoltà o alla fine il cervello guida le mani in automatico a seconda dello strumento? Sì, infatti io, avendo cominciato molto presto, non ho mai avuto alcuna difficoltà nel passare da uno strumento all'altro. Sì, perché vorrei dire che ci sono molti polistrumentisti, uno suona la chitarra, suona il pianoforte, ma sono strumenti radicalmente diversi, no? E quindi viene quasi normale approcciare diversamente, ma qui in realtà la posizione è quella, lo strumento è sostanzialmente quello, però in realtà cambia tutto, in questo forse vedevo molto. Beh, non proprio tutto, perché ci sono delle posizioni che effettivamente si sono uguali, si equivalgono. Certo che sono due strumenti sostanzialmente differenti, ecco, è un po' come dire clarinetto e sassofono. Certo, e allora, siccome come sempre qua il tempo vola e abbiamo, ci siamo spinti verso il limite superiore della durata media di questi miei incontri, io direi che andiamo a concludere, ma non possiamo concludere come normalmente io faccio, ovvero facendo ascoltare un disco, con la copertina in dissolvenza, perché io voglio che tu ci regali qualcosa qui dal vivo. E qualcosa che è il traversiere, e lo so perché ti ho chiesto io di portarlo, anche perché insomma il flauto d'orchestra è molto noto, molto... Ma il traversiere forse meno, e forse meno noto anche, soprattutto visto così, da vicino in un contesto intimo. E dunque, magia della televisione e del cinema, che cosa ci regali? E eseguirò un allemande da una suite per liuto di Silvius Leopold Weiss, grande liutista e compositore contemporaneo di Johann Sebastian Bach, che ho trascritto per Traversiere solo. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Applausi! Ci sono solo io, ma insomma facciamo finta che ci sia quel pubblico che credo anche a te alla fine manchi, no? In questo periodo un po' triste. Che dire, chiudiamo qui, non c'è molto altro da aggiungere su questo sigillo che hai voluto così, mettere a questo nostro incontro che spero, insomma, lascerà un po' il segno, perché abbiamo detto cose belle. Quindi io saluto il pubblico. E io mi unisco a te. Un caro saluto a chi ha avuto la pazienza di seguirmi, di seguirci fino a qui. Salute a tutti.